è l'ultima volta inutile discutere con l'arbitro combatti con te stessa e con gli altri signori siamo passati nella primissima partita ora siamo arrivati alla seconda partita di questo torneo quindi nella finalissima per poi decretare il vincitore di questo torneo a pvd 100 gli avversari sono belli in forma è per iniziata la partita attaccato è attaccato a posto giocano veloci questi dobbiamo essere svegli Kri chiamala ora la chiama la Kri la Kri la Kri la Kri la Kri buona non va via non va via non va via non va via giocare 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 calma guadagnami bravo Kri buona Andre bravo prima tira solo calma non farlo girare e manda e manda e manda e manda bravo Kri arriva Kri calma lavora va bene va bene va bene questo tipo arriva mamma si qui si 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 che solo mandalo 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 stella 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 bravo Davide giocare 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 solo uno da punti non metti bravo Kri bravi ancora e si forte calcio chiudo attacca va bene va bene si 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 pigelo 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 bravissimo solo niente forte niente forte bravo 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 vai 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 di la bravo Edo bravo ando bene bene copri da copri da fuori e vado e vado bravo Min bravo Min bravo tira 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 bravi si Ale si Peter proteggi e vai e vai e vai punto forte bravo è ora è ora è ora adesso si schifo ma vado te no non vado 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 come vado non ashram bene la vado vado city si in stai la stella, stai la mette stai la mette stai la mette stai la mette devi puntare devi andare si col corpo col corpo si bravo oh oh dai come vuole essere fallo questo si vai diego vai fallo fallo, fallo rosso per noi, per noi dai si 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 dai dai bravo dai 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 forza si non farla rimbalzare non farla rimbalzare si scala vai diego si solo arriva va bene va bene stai la stai la in mezzo peter ci sono messi in due alle ha attaccato lì attaccato dietro non si gira eh ale peter lungo si si bravo dai ale dai ale attaccato lì attaccato lì ale vai te vai te diego proteggila viti te viti te bravo bravissimo ancora dai diego bravo bravo stai la stai la stai la ancora ancora stai bello stai bello ancora abbondi vieni giù vieni giù calma noi calma tienila lì si tienila lì stai non c'entrata vai vai Ale vai Ale tieni palla tieni palla Min stringi scala attaccato Ale tieni palla tieni palla tienila lì prendi fallo si diamo la mano bravo allora è vero dopo 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 anche io ho sentito pulmino pulmino andiamo tutti al mare ragazzi ascoltatemi vi avevo promesso che servissimo vinto un torneo vi avrei portato a mangiare la pizza e vi avrei fatto un pulmino solo per noi dove non c'entra niente il calcio ma è solo divertimento tra cui magari anche la partitella con i genitori però però prima di arrivare ai festeggiamenti ragazzi veramente io quest'anno come mister david e mister cala non possiamo che essere fieri ed orgogliosi di questo grandissimo progetto è stata un'emozione incredibile è un'esperienza incredibile è un'esperienza incredibile la mia prima esperienza ufficiale come allenatore riuscire a metterle in pronta riuscire a migliorarvi così tanto con così poco tempo non so neanche io che cosa dire perché la vittoria di questo ultimo torneo dopo che abbiamo subito una sconfitta nel torneo precedente e che sembrava tutto smontato tutti arrabbiati che avessimo perso la Champions League alla fine ce l'abbiamo fatta quindi fatevi tutti un applauso sì con questa vittoria pizza trofeo mare e cinema ci siamo ragazzi una famiglia una famiglia qualsiasi cosa accada qualsiasi cosa accada sappiate sappiate che vi vogliamo bene vi voglio bene e vi vogliamo bene ieri oggi domani per sempre forza e giari oh i 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 giari signori 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 è momento è tempo di fiesta è tempo di alzare la coppa quella meravigliosa coppa dopo un torneo strabiliante dei ragazzi siamo riusciti a portarci a casa dopo un anno incredibile un torneo come primi in classifica ragazzi e che torneo io devo fare veramente i complimentoni a David a al maestro della sapienza e al prof della tecnica che quest'oggi non c'è ma perché perché il prof sta facendo il corso per salire di livello come allenatore e quindi ci sono i corsi in questi periodi e purtroppo non è potuto venire però siamo veramente orgogliosi come team di aver fatto quello che abbiamo fatto e questo finale di torneo è la riprova di tutto il lavoro che abbiamo dato e fatto durante l'anno adesso andiamo a festeggiare un po' con tutti quanti i genitori por la prima d'allenatore da mister andiamo andiamo oh 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 ragazzi tanti minuti oh 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 ooh oh oh Violli! 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 Ragazzi, io quest'anno come mister David, mister Cala, non possiamo che essere pieni ed orgogliosi di questo grandissimo progetto. Grazie! 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 Grazie!